Ma non sono le imprese a produrre, oltre che merci o servizi, posti di lavoro? Certo che sono le imprese a produrre posti di lavoro, il problema è che l'impresa è lasciata libera di fare quello che vuole. E uno dice, beh ma è una bella cosa. Sì, ma bisogna anche tenere presente che ci sono delle conseguenze. Scusate, è un po' complesso il problema del lavoro, cioè è difficile poi dopo. Io già so che sarà difficile argomentarlo nel poco tempo del dibattito. Però possiamo provare a pensare che forse le cose siano sbagliate alla radice? Mi spiego. Se il sistema delle frontiere totalmente aperte, della libertà assoluta di passaggio dei capitali, delle persone, delle merci per tutto il mondo, che è stato così pervicacemente inseguito in questi anni, è splendido. Possibile che a nessuno sia venuto in mente che una grande impresa è libera di mettere la sede dove riceve i profitti, nel posto al mondo dove le tasse sono inferiori, e la sede di produzione nel posto al mondo dove è più basso il costo del lavoro. E così facendo abbiamo un mondo che è splendido, perché è splendido senza dubbio, per i profitti della grande impresa. Ed è il motivo per cui abbiamo imprese come Apple o qualcosa del genere, che invece di essere indebitate, perché normalmente un'impresa dovrebbe essere indebitata in modo tale da poter sfruttare la differenza tra il tasso di profitto e il tasso di costo del capitale, ha 90 miliardi di liquidità. Ecco, se un'impresa ha 90 miliardi di liquidità è probabilmente perché è talmente buono l'humus dove il profitto può aumentare, che è quasi in bolla. Ora, se io dico ogni tanto delle cose strane o delle cose che sembrano impossibili, del tipo il lavoro deve essere fatto qua, a ogni costo, quindi che ci siano i dazzi, che ci siano i controlli alle frontiere, che non sia consentita un'impresa di fare totalmente quello che vuole, non sto dicendo delle cose impossibili, però devo fare in modo che poi l'impresa ritenga conveniente produrre qui. Perché se io metto dei limiti, metto delle barriere, così di questo tipo, metto delle regolamentazioni, metto aumento i diritti dei lavoratori, aumento gli stipendi, faccio tutte queste cose che tutti si riempiono la bocca di voler fare, ma l'impresa in queste condizioni prende, chiude tutto e trasferisce tutto da un'altra parte, quindi poi non ci sono i diritti, non ci sono le imprese, non c'è niente. Noi stiamo andando su questa china da tanti anni, tanti anni, quindi quello che vorrei fare io, se per caso mai mi capiterà di essere al governo, sono due cose piuttosto semplici, innanzitutto riportare la nostra moneta ad un livello tale per cui la produzione qui sarebbe conveniente, perché è impossibile pensare in questo mondo così competitivo di produrre qualcosa in un paese che ha una moneta che è chiaramente sopravvalutata per la sua economia, sperando di far successo, e poi abbassare la tassazione con una flat tax o qualcosa del genere, in modo tale che risulti molto conveniente per qualcuno produrre qua e sia stupido delocalizzare. Se poi ci sarà bisogno in questo regime anche di mettere dei dazi per evitare produzioni delocalizzate in Cina o qualcosa del genere, faremo anche quello e vedrete che si produrrà qui in Italia. Volevo sentire da lei che ne pensa anche dell'abuso dei voucher e perché c'è stato questo uso abnorme. Ma vede, il voucher non è come ha detto la Camus un pizzino, è molto più semplicemente uno scontrino, cioè è il punto finale del lavoro merce, dove a un certo punto il lavoratore, esattamente come se fosse un ananasso sul mercato, io compro l'ananasso, pago e mi rilasciano uno scontrino. Non ho nessun obbligo di ritornarci, poi dopo a riprenderne domani un altro, non ho nessun contatto con il supermercato. viene pagata la prestazione per quella che è e finisce lì. Non c'è nessun tipo di prospettiva, non c'è nessun tipo di continuità. Questo è il punto più basso e più comodo per tutti dal punto di vista del datore di lavoro. Non ho nessun tipo di vincolo, non devo scrivere un contratto, non devo fare niente. Sono in regola perché voglio fare quello in regola, quindi non pago in nero l'ananasso, mi danno il suo scontrino e quindi sono tutti contenti. Ora, è evidente che se io lascio uno strumento totalmente comodo dal punto di vista dell'imprenditore, l'imprenditore lo sfrutta. Questo è palese, però è evidente che il lavoro non è un ananasso, cioè non è una cosa nella merce. Perché poi dopo il costo sociale della precarizzazione estrema, cioè del fatto di dire che io oggi sono lì ad aspettare e domani non ci sono, è molto superiore rispetto a quello che può essere il beneficio momentaneo dell'impresa. Quindi cosa bisogna fare tenuto presente quello che abbiamo detto prima? Vale a dire che se noi a parità di regole mettiamo lo stipendio minimo che ha appena detto Damiano o qualsiasi tipo di regolamentazione che può essere sacrosanta, però rientriamo nella categoria di quello che ha detto quel lavoratore almaviva nell'intervista e dice ma in Romania costano 300 lo stipendio, io invece costo 600 quindi o lavoro 28 ore al giorno e mi devono tenere su con la flebo oppure devo accettare anch'io i 300 euro. Allora, dato che in Italia con 300 euro non si campa, ma non si campa neanche con 600 sinceramente, perché qui siamo arrivati al livello di considerare uno stipendio di 600 euro come un lusso. Una volta parlavamo di generazione 1000 euro e sembra un sogno e non era tantissimi anni fa. Sì, qui stiamo precipitando verticalmente, ormai 600, 500, poi dopo magari ti distrai e prendi 40 euro di multa per il divieto di sosta, sei morto per quel mese lì. Allora, io però sinceramente rinsisto, bisogna venire fuori da questa situazione, perché la piccola impresa italiana è così, perché è affamata da una situazione sbagliata. L'austerità, questa famosa austerità che era la grande ricettona di Monti, ha fatto una cosa molto semplice, ha distrutto la domanda interna. Se io sono una piccola impresa, quindi una non di quelle che esportano in Australia o cose di questo tipo, ma che vende le cose in Italia. E distruggo la domanda interna, perché a furia di tasse, a furia di taglia, a furia di mazzate, la gente non spende più. E a chi vi vendiamo questi prodotti? E dentro in questo mondo dei tagli delle tasse abbiamo anche la depautorazione del risparmio, perché è ovvio che a una famiglia a cui è stato portato via il risparmio perché aveva le obbligazioni della Banca Etruria o del Monte dei Paschi o qualcosa del genere, questo non spende. Se io ho il negozietto, se io ho qualcosa, non ci sto dentro, e allora mi invento i voucher. Io devo rimuovere le condizioni per cui non ho la possibilità di fare altro che il voucher. Devo far ricreare la domanda interna.